Grande affluenza di pubblico nel rispetto delle disposizioni anti-coronavirus in Piazza Basilica per il Premio Strega 2020. Nella sua tappa di Capaccio Pestum, l'incontro con i finalisti dello Strega si è collegato al progetto Biblioteca Digitale, aggregazione e inclusione sociale nella nuova Biblioteca di Comunità, finanziato dalla Fondazione Conil Sud, un'iniziativa promossa dal Comune di Capaccio Pestum e Cooperativa Sociale Unikes, insieme a un ampio partenariato composto da enti locali, scuole e associazioni. L'importanza della serata di ieri per il territorio e la comunità di Capaccio Pestum, dichiara il primo cittadino, Franco Alfieri, è l'incontro di due eccellenze, da un lato il Premio Strega, il più prestigioso riconoscimento letterario italiano, dall'altro le risorse archeologiche di Pestum con tutto il loro fascino e la loro bellezza, un connubio dal potenziale straordinario che immaginiamo possa avere anche sviluppi futuri, peraltro iniziative come Biblioteca Digitale, premiata dalla Fondazione Conil Sud, con un cospicuo finanziamento, testimoniano la volontà della nostra amministrazione di fare della cultura uno dei motori di rilancio del territorio.